Non si ferma la lunga scia di sangue sulle strade della provincia di Udine. Sabato 22 giugno un nuovo incidente dall'esito mortale si è registrato all'altezza del centro commerciale di Porto Nogaro lungo la provinciale 50 tra San Giorgio e la zona industriale Ausacorno. Una distrazione e un sorpasso azzardato alla base del sinistro. L'arteria è costruita su due corsie di marcia con doppia linea continua orizzontale sull'asfalto che separa le due careggiate di marcia. La vittima Max Macoratti 27enne residente nella cittadina della bassa friulana alla guida della propria auto morto sul colpo a bordo con il figlio letto di 4 anni e un amico entrambi eri trasportati all'ospedale di Udine per i traumi riportati ricoverati in prognosi riservata non in pericolo di vita. Sull'altra auto condotta da un 26enne residente a San Giorgio e un altro uomo entrambi trasferiti in ambulanza all'ospedale di La Tisana in codice giallo. Riedevi da parte dei carabinieri del radiomobile di La Tisana per chiarire le dinamiche del sinistro.